Il valore di quella chiave che dà la mente umana e tanta ambita sta nella differenza di chissà che 2 più 2 fa 4 e non sa come né perché può anche far di meno e può anche far di più in quando e se ci vuole ma l'uomo di quaggiù per ciò che è la sua mole non ha da essere Gesù. Grazie a tutti.